Pa, pa! L'industria facchionda è un'azienda che si occupa permanentemente di realizzazioni di tank in accello di piccole, medie e grandi dimensioni, dunque parliamo anche di serbatori in pressione e serbatori asettici, dunque anche contenimenti di liquidi alimentari, succhi in valaggio a parte e poi la realizzazione di serbatori sul posto, dunque serbatori di grossi dimensioni. Per quanto riguarda il motivo per cui quest'anno abbiamo deciso di escorre il 5 stack essendo la prima nostra venuta qui in Fiera, ci trevamo per presentare quello che è il nuovo nostro prodotto, cioè un micro birrificio, infatti la nostra azienda ormai dopo uno studio che va avanti da alcuni anni ha messo su un impianto per la realizzazione di birra artigiana. Dunque abbiamo così voluto inaugurare questa nostra venuta qui, il cibo stack, l'eccellenza per quanto riguarda la tecnologia alimentare, portando appunto questo nuovo nostro prodotto.